Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono lo lupo del tubo oggi facciamo un unboxing così, un po' vuncio, un po' sporco di terra, un po' contadino così sulla tovaglia e calorifero, si, si oggi andiamo a aprire la Premium Edition di Farming Simulator 19 come avevo detto nei video precedenti, non l'ho ancora aperta, lo facciamo insieme vediamo che cosa c'è dentro perché non resisto più, senza distruggere magari il gioco, la scatola e andiamo a spacchettare, vediamo un po' che cosa, innanzitutto, ah si apre dall'alto, ok tanta roba, tanta roba ovviamente il gioco, eh eh eh, io li adoro versione fisica, è più forte di me gioco completo, due espansioni, 8 dlc, 72 pagine di artbook da un'occhiata se ci sono codici, non ci sono codici, quindi mi viene da pensare che i dlc siano già su disco e questa è una cosa che apprezzo tantissimo veramente apprezzo tantissimo, vediamo se sta in piedi così e poi Welcome to Farming Simulator 19 unica e sola e solo artbook e guida che esistono su questo gioco non c'è nessuna guida su Amazon del gioco, non c'è nessun wall true in italiano wow allevamento, agricoltura, silvicoltura ah, spiega delle missioni la banca, come funziona ah, finalmente tutte le icone ragazzi tutte le icone perché queste bisogna, per scoprirle, bisogna scorrere i menu e andare a cercare l'icona che ci interessa e leggere che cosa significa, invece qua è tutto chiaro è una guida oh, tutte le icone ci vengono spiegate quella dei puzzle la capacità l'entrata oraria mappe oh, che bello, una panoramica dall'alto ma questa è una guida questa è una guida ma che meraviglia che meraviglia per filo e per segno mappe, campi aratura piantare come funziona ogni procedura è quello che mi serviva a me quello che mi serviva a me silvicoltura cioè il taglio degli alberi la vendita di essi e del cippato i macchinari che servono ah, gli animali perfetto gli animali cosa bisogna dare da mangiare le varie tipologie e gli equipaggiamenti penso facciano parte non so di lc esatto ah, perfetto 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 il mais l'orzo l'avena frumento si può trasformare in pula ti dice tutte le varie combinazioni che cosa mangiano gli animali che cosa si può ottenere dai vari raccolti e ho finito di fare domande ho la mia guida è meravigliosa tutto avrei pensato tranne fosse così consunta e dettagliata quindi ragazzi che dire vediamo se stanno in equilibrio perfetto ragazzi fantastico contentissimo l'ho aperta con voi per condividere la solita gioia di un bambino di 40 anni quale sono vi ringrazio per avermi seguito se il video vi è piaciuto lasciatemi un like ci vediamo alla prossima un saluto a tutti gruppo del tubo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti